Ma papà, che cosa stai facendo? Come che sto facendo? Mi sto preparando per un concerto. Ma, ma, lo sai che i congiunti sono tutti sospesi? Certo che sono sospesi per ora, ma prima o poi ricominceranno. Una serie di video didattici per avvicinare i bambini alla musica. Si chiamano Indovina chi viene a suonare i primi tre mini video presentati e realizzati dai servizi educativi assieme alla Fondazione Teatro della Fortuna e dall'Orchestra Sinfonica Rossini. Un'iniziativa di Stefania Carbone e Giorgio Caselli, che grazie al contributo dell'Orchestra Sinfonica ha preso vita con la realizzazione di videoclip didattici per permettere ai bambini di continuare a fare musica anche in pieno lockdown, avvicinandoli non solo al genere classico, ma anche alla musica rock e pop. Si tratta di una serie di tre video e ce ne saranno altri, ha spiegato Caselli, nati sotto forma di quiz musicale e pensati in piena pandemia. Chiaramente la cosa eccezionale è che poi con l'orchestra, con l'orchestra sinfonica Rossini e i professori abbiamo messo insieme sia la parte didattica e semplice, che può servire sia anche per capirci alla scuola dell'infanzia, con i professori che hanno spiegato in maniera eccezionale gli strumenti e poi abbiamo messo l'uso dello strumento in orchestra, quindi quello che succede quando poi lo strumento viene portato in orchestra, la fantastica orchestra sinfonica. Quindi il primo, girato tutto con i cellulari e assemblato con le parete telefonate, infatti poi vedete che è molto diverso. Poi il secondo è che è stata una piccola deviazione, indovina chi viene a suonare, ma siamo in teatro, l'idea di far vedere cosa succede dietro le quinte, quindi i bambini della scuola Tombari, della classe quinte della Tombari, sono venuti, seguiti da me senza disturbare le prove, in palcoscenico durante le prove di Pulcinella, un'opera fantastica. Il terzo, professori dell'orchestra, Norris e il quartetto, frutto dell'orchestra, hanno spiegato in maniera semplice e chiara quelli che sono gli archi. L'iniziativa, che parte dal problema pandemico dello stare a casa, ma poi approda nella produzione di video che serviranno alle scuole nei prossimi mesi, ha cercato di dare una risposta anche al bisogno di socialità delle bambine e dei bambini in un contesto difficile e complesso come quello segnato dal Covid. Fondamentale per il progetto è stata la collaborazione con l'orchestra sinfonica Rossini. Il presidente Saul Salucci, infatti, ha messo a disposizione dell'iniziativa i maestri d'orchestra. L'orchestra si è messa al servizio del territorio, della città di Fano e dei servizi educativi. Per un progetto di formazione a cui noi teniamo molto, ho messo a disposizione i nostri professori che abbiamo la fortuna di avere un'orchestra con un nucleo nel territorio e questa è una grande fortuna perché avere nel territorio professori di questo livello ci permette di giocare, di giocare bene, di divertirci e di fare cose molto importanti. Grazie. 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 Grazie.